Andrea Camplone che non ha bisogno naturalmente di presentazioni, in questo momento come si suol dire alla finestra lui non è che ci stia tanto bene, è vero Andrea, cominciamo subito con questa domanda. Non ci sta bene no a casa, ma non per qualcosa, a casa sto bene, il problema è che mi manca il campo, l'adrenalina della partita, le solite cose, sono quasi 30 anni che stai in mezzo al carico quindi alla fine ti manca un pezzo importante. Non c'è dubbio, poi magari ci ritorneremo a fine intervista, il Pescara, Pescara che affronta il Verona, è uno dei big match di questa giornata, è la vera delusione di questo campionato il Verona intanto? Ma una delle delusioni sicuramente, visto la rosa che ha a disposizione, visto il campionato che ha fatto, quindi anch'io mi aspettavo molto di più, pensavo che fosse a questo punto già in Serie A e invece ha avuto tanti alti e bassi che lo sta portando addirittura secondo me anche fuori dai playoff se non si sveglia. Pescara invece è sorpresa di questo campionato, quinto posto, 50 punti, due in più appunto del Verona Grandifirma. Sì, Pescara ha visto la rivoluzione fatta, ha visto i nuovi acquisti, visto che dovevano partire per un campionato tranquillo e la rivoluzione del campionato, ha fatto un cammino spettacolare, anche se sento in giro certi malumori sul pillone che non mi aspettavo, non mi aspetto perché è un allenatore che sia quando è arrivato, si è salvato, visto che è stato chiamato per la salvezza e sia quest'anno ha fatto un campionato importante di primo livello. Poi è normale che Pescara è una piazza abituata al calcio spettacolo, al calcio propositivo, io credo che ogni allenatore ha una sua filosofia e questa filosofia ha portato punti alla società. Il Pescara ormai è nei play-off secondo me, molto importante sarà la partita con il Verona secondo me. Sappiamo come gioca il Pescara, il Verona è in difficoltà però è una squadra molto importante sul piano tecnico, fa tantissimo palleggio, sa ripartire molto bene in contropiede, è vulnerabile però in difesa. Sì, però bisogna vedere che cosa hanno intenzione di fare, non credo che vieni a Pescara a fare per il punticino, il Pescara deve stare attento al palleggio. Sono molto bravi nel palleggio, giocano molto bravi tra le linee ed è una squadra abbastanza esperta. Tanto il Pescara ci ha abituato a un'attesa e poi può sfruttare le ripartenze. Squadra a contropiede. Quindi squadra a contropiede anche perché le armi che ha sono queste diciamo, giocatori veloci davanti e quindi può fare la differenza. Adesso bisogna vedere quanto si vuole scoprire grosso e quanto vuole vincere grosso. Perché il Pescara i suoi punticini ce li ha, il Pescara può stare bene anche in pareggio alla fine, visto quattro partite alla fine. Questa Serie B però, obiettivamente Andrea, non ha regalato grandi novità dal punto di vista tecnico-tattico. Forse l'unica vera realtà da sottolineare sotto questo profilo è il Lecce, che però ha un discorso già avviato da un paio di stagioni con Liverani in panchina. Sì, il Lecce è la sorpresa di questo campionato, sta facendo un campionato spettacolare secondo me. Diciamo che anche il cambio ha portato il cambio in Brescia, il cambio allenatore ha portato una ventata nuova, infatti sta prima in classifica, però lì già la coppia d'attaccante Torregrossa e Donnarum penso che è un lusso per la Serie B. Quindi mentre il Lecce zitto zitto è partito in sordina con una rosa sistemata al punto giusto, una già rodata, quindi con un allenatore che già conosceva la squadra e sta facendo un campionato importante. Anche se sta lì, c'è il Palermo lì dietro, il Lecce deve ancora riposare, quindi molto importante sarà la partita con Lecce-Brescia, secondo me se riesce a far punti lì ha già un passo in Serie A. In quest'ultimo periodo chi fa davvero la differenza del Brescia e Torregrossa più di Donnarumma? Torregrossa purtroppo ha avuto un po' di infortuni nella sua carriera, già da quando stava a Crotone a me piaceva tanto, infatti ho cercato sempre di portarmelo dietro, però non sono mai riuscito, con la squadra dove sono andato, anche perché ha avuto un po' di infortuni importanti, quindi quest'anno sta molto bene, poi con una spalla come Donnarumma penso che sono ben allestiti e sta facendo la differenza. Non ti ho fatto una domanda su Sottilla che si sta mettendo in evidenza in queste ultime partite, strappa benissimo in campo aperto? Mi piace molto, è una bellissima sorpresa, mi piace molto. Tecnica in velocità? Sottilla, salta l'uomo, mi piace molto, è un giocatore, ma anche Maras mi è piaciuto, anche se purtroppo non fa gol, perché sennò sarebbe un giocatore completo. È un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere in squadra, perché è un giocatore che ha dei stappi importanti, si sacrifica tanto per la squadra e poi i ragazzi corre, corre, corre tanto e quindi è un giocatore per me che è cresciuto anche molto dalle prime partite. Gli manca il gol, purtroppo però nella vita non si può avere tutto, se non sarebbe seriato. E quindi niente, sono due giocatori molto male, anche del sole, ci sono tanti giocatori bravi che hanno bisogno di essere valorizzati, quindi purtroppo il nostro campionato non aspetta nessuno, non aspetta i giovani. Il campionato inglese è diverso, abbiamo visto l'Ajax, per dire gli olandesi che giocano, i ragazzini giocano, è tutta un'altra mentalità, giocano in Champions, ragazzi e ragazzini che veramente, che qui da noi farebbero fatica a giocare. Milit classe 99, capitano dell'Ajax. Da noi farebbero difficoltà, sarebbero in difficoltà in B, perché c'è troppo una pressione anche mediatica, ragazzi, questo è anche vero. Quindi di là c'è un altro tipo di pressione. Bisogna cambiare un po' di cultura, di mentalità. Se vogliamo fare crescere, rinascere il calcio italiano abbiamo bisogno di giorni. I giovani devono essere, devono stare tranquilli e bisogna farli crescere. Perché Campone dopo un anno e mezzo è ancora ai margini del calcio? Ma perché non ho procuratore. È passato un anno e mezzo, è 30 settembre 2016. Non me lo ricordare, non aprire una ferita così. No, ma perché sicuramente io non ho un procuratore, non sono legato a nessuno di questi, quindi alla fine fai fatica a trovare squadra. È un mio modo di pensare, non mi voglio legare a nessuno perché poi sei soggetto a tante cose. Allora i procuratori che sono in giro sanno che sono senza nessuno, quindi chi mi trova a squadra prenderà la parcella. Quindi sei penalizzato? Un po' sono penalizzato perché poi non avendo un procuratore che lavora sotto come fanno tanti altri è normale che fai fatica a trovare squadra. Sì, però parla della tua carriera che comunque è buona, buonissima direi, gli ultimi tre anni sono stati molto positivi. Sì, sì, c'è una media punti importante, c'è tante situazioni importanti, ho fatto quattro playoff, una vita eccellente. I numeri dicono questo, ma anch'io mi meraviglio. Dico, ma com'è possibile che neanche una chiamata? Evidentemente ci sono allenatori in giro più bravi di me, che devo pensare? Io sono così, non è che sono uno che chiama, io non chiamo direttore sportivo. Non ti proponi? Non mi propongo perché dico, se un addetto a lavoro sa, tanto la lista degli allenatori disoccupati lo sanno tutti, vai su internet e trovi tutti disoccupati. Quindi vedi anche la media punti di ogni allenatore degli ultimi anni, vedi dove è allenata, quindi negli ultimi anni ho fatto piazze importanti, quindi sanno che che allenatore sono. Evidentemente, ripeto, ci sono allenatori più bravi di me e faccio complimenti a loro. Andrea, tu sei molto umile, noi ti auguriamo le migliori fortune perché lo meriti, non è piageria, lo sai, insomma, ti stimo da tanti anni. Nonostante tu non venga in trasmissione. Anzi, a proposito, quando verrai? Prima della fine del campionato si può fare, dai, una puntata con Marchetti, Marchetti ti aspetta. Ma lo vedo quasi tutti i giorni, lui non mi vede perché è stato in vicino, ma io quando passo lo vedo sempre. No, non posso venire perché ne siete tanti, ne siete tanti. Poi dovresti accontentare tutti. E poi devo accontentare tutti. Facciamo tutti quanti la trasmissione con te. Facciamo una cosa unica, almeno facciamo una cosa bella. Naturalmente si scherza. Grazie Andrea, è stato davvero un piacere, un piacere intervistarti, una piacevolissima chiacchierata.